Allora mister, eravate sotto 2-0, avete avuto la forza di reagire, rimontare, insomma per come si era messa alla fine, è un punto di ripartenza? Sì, sicuramente è un punto di vitale importanza, visto l'andamento della gara sotto di due gol col Balletta, non è un prestato determinante secondo me il gol nel finale del primo tempo, dove ci ha fatto andare negli spogliatori con un animo diverso. Ecco, il carattere è la nota positiva della gara di oggi? Sì, più che il carattere si avvertiva che ci doveva essere una scossa, questa scossa c'è stata in modo positivo, niente, sono soddisfatto dei ragazzi, cerchiamo di ripartire da questa scossa. Cosa è mancato fin qui a questa squadra? Ci si aspettava qualcosa di più in questa prima parte, adesso è arrivato lei, insomma, cosa crede di poter dare all'Unione Calcio? Beh, oggi mi aspettavo quello che hanno dato, una scossa caratteriale, ecco, poi magari strada facendo dobbiamo metterci dell'alto della qualità che serve, le partite non le vinci solo col carattere, insomma. È una squadra questa che può centrare tranquillamente la salvezza? Sì, sicuramente la può centrare, ma c'è da lavorare molto, non bisogna cullarsi su allori inesistenti al momento.